buongiorno caro rav cli mondiale adesso c'è scritto nel testo non fare gli altri quello che tu odi molte volte noi sentiamo diciamo ma all'improvviso la nostra natura ci dice che devo farlo allora come lo fai perché mi è chiaro che è così che bisogna fare perché vada meglio però alla fine del giorno facciamo tutto il contrario rav io ti comprendo da molti anni io non sono ancora libero dal mio ego io combatto col mio ego da molti anni nonostante quello non dobbiamo rinunciare perché questo è il nostro ruolo è la nostra noi esistiamo in questo mondo con la nostra natura noi esistiamo così da questa esistenza noi possiamo cambiare il rapporto col nostro ego e quindi provate a riferirvi agli altri con amore qualche volta funziona qualche volta ce la facciamo a farlo ma il fatto che poi molto velocemente cadiamo in corruzione noi comunque continuiamo continuiamo a spingere verso la nostra correzione verso il nostro ruolo e lavoreremo solo in questa direzione non c'è nient'altro noi siamo in un mondo che è opposto al mondo spirituale e per raggiungere per raggiungeremo il mondo spirituale dobbiamo arrivare all'amore grazie ma allora molto tutto vocês di